Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Sì, pure io, ragazzi, dobbiamo essere sinceri, è inutile che ci guardiamo il culo a vicenda Tu che dici, Max? Sì, tra virgolette, insomma Come fa l'essere di espansione? Infatti non è infinito l'universo, è infinito per dire che... Ma se è appena detto come il cazzo è infinito, è appena detto Infinito era un modo per dire, noi abbiamo 93 miliardi di anni luce osservabili ma non sappiamo quanto sia vasto l'universo L'espansione dell'universo si può denotare dalla tendenza rosso delle galassie che si stanno allontanando È così che è nata la teoria del Big Bang È proprio appuntarti il flash in faccia Da sopra, da sopra Con problemi tecnici qua Così Così si vede l'occhio? Sì Si vede che sono chiari già Questi sono molto grandi miei, puoi navigarci dentro Scusate Ho fatto serata ieri Salute Tutta la grande quantità di natura che hanno loro Cioè il fatto che hanno tantissimi deserti, praterie, montagne Quindi se tu prendi una roulotte o occupi una casa abbandonata in una città fantasma In America non ti dice niente a nessuno C'è una volta più facile A un certo punto Sintetizzando Una volta che aveva vissuto tantissime avventure Con barboni, drogati, prostitute C'è un senso che conosceva questi personaggi Ancora che faccio i video su YouTube? Ah sì? Ah Sì Dopo faccio un video con Rubino Così andiamo a film Non a mascolo Ho spagliato Io non sono vecchione No 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 Prendo le distanze più massime Prendo le distanze più massime No Ma veramente Ma lui ha detto io non sto a Riccione Ma Qualunque cosa ha detto veramente Ragazzi Fatemi prendere le airpods per me Veramente Scusami Enrico ma devo per forza allontanarti dallo studio perché Diciamo che non hai esposto questo concetto nel migliore dei modi Ecco quindi Queste cose purtroppo Anzi per fortuna in realtà Non sono Grazie Ciao 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 Ma perché non stava guardando noi? Buonasera Salve Ciao Elis Hai rubato la stanza Mirko e il boss? Può essere Perché non sorridi? Io Bravo Davide è bello Sì Eh lo so E allora sorridi Un mal di due Elis 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 da quant'è che mi segui? Quanti anni Quasi tredici C'è no? No 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 Quasi tredici mi mancava eh Quasi tredici mi mancava Si vede già dal fatto che una nave compare Compare prima la parte superiore che è lo scafo Allora da 40.000 metri di altezza E un gruppo di amici E un gruppo di amici Ha lanciato una sonda Che ha raggiunto con l'altezza lì Si dovrebbe vedere a maggior ragione la curvatura No la deve essere più in alto Anche perché la stazione spaziale internazionale che è molto più in alto Si vede nettamente la curvatura terrestre Pi pisci in piedi? Pi pisci in piedi? No Chi è qui? Sei dovuta No 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 Collega un collega un collega Maaa Si si Cioè quando pisci tiene in mano qualcosa Il piscello del mio fidanzato Ma che senso scusami Ciao No no non andartene No Signore Venga qui È finito Dai Ormai minchia sono gasato pure io Sono veramente in Carlo mode Abbiamo creato un nuovo personaggio Carlo Carlo minchia lo amo Dai Carlo ti voglio Dai 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 Io ti giuro Roberta scusa ma voglio risolvere il mio diverbio con Carlo ora Cioè quella è la priorità Io ho bisogno di parlare con Carlo E sai che questa clip qua su YouTube Non sarà Cripe Autorini? Si Ah ho capito Vabbè ti credo che è organizzata Ti credo che è organizzata Perché l'ha organizzata Oh yeah Fighissimo Lo devo comprare anch'io Forza Horizon 5 Deve essere una bomba Lo so apre 5? No su Xbox e su PC Ciao ragazzi Ciao 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 Dovrei conoscerlo No Sembra tanto Tipo Sei la mia troia Eh ma perché Per capire se magari qualche patologia è arrivata Max Cosa ne pensi insomma di loro due dal punto di vista sessuale Ovviamente dovete mettervi d'accordo per un voto univoco Rubino e Max Io direi di fare una media tra le cose di Rubino L'abbiamo sentito adesso Sì l'abbiamo sentito Grazie È una prova che dicevo che facciamo bene Salute Bene E qual è l'espressione da rimorchio? No lei si è sentendo Dico se gli occhi trasmettono qualcosa O se non trasmettono niente Com'è in più È importante che trasmettano love non ho sentito scusa mi ha trasmesso il love ti è arrivato